La curva del contagio del Covid-19 resta bassa e lascia ben sperare per la ripresa. Infatti, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza di riapertura anticipata di parrucchieri e centri estetici, che ripartono il 18 maggio, a condizione che il servizio venga svolto su appuntamento e rispettando le misure regionico-sanitarie previste dal provvedimento. Ma quali sono le prospettive in merito a tale riapertura? Abbiamo ascoltato storie di parrucchieri ed estetisti in difficoltà, coscienti che la ripresa sarà dura, ma pronti a garantire il loro servizio in sicurezza, affinché si possa ricominciare e ritornare pian piano alla normalità. Infatti, hanno raccontato di aver igienizzato gli ambienti delle loro attività, di essersi attrezzati con dispositivi come mascherine, coprivolto e copriscarpe, che insieme ai loro clienti si impegneranno ad utilizzare. Un po' più delicata sarà la situazione per vedere la sterilizzazione dell'attrezzatura, ma questa non è una misura nuova per loro. Noi vogliamo ritornare a vivere le nostre giornate con le nostre clienti, con tutta quella che era per noi la normalità. In questo momento tante cose ci sono state tolte, dal diritto lavoro, dal diritto di esprimersi molte volte, perché sembra che noi come categoria siamo stati un attimino penalizzati per via appunto di quella che è il distanziamento sociale. Siamo veramente pronti a ripartire, vogliamo che i nostri clienti stiano nella massima tranquillità, andare nel centro estetico, così come al parrucchiero o al barbiere, deve continuare ad essere un momento di relax, un momento di benessere. Maria Teresa parla a nome della categoria di estetiste parrucchieri ed esprime prima di tutto un bisogno di umanità e di rispetto tra la gente in un momento difficile come questo. Solo così si potrà ricominciare presto in serenità e sicurezza. Un po' più triste la denuncia è quindi il bilancio della loro situazione economica. Quello che chiediamo è che molti chiedono il diritto anche a tutte quelle che sono le agevolazioni che in altri settori sono stati dati come noi non rientriamo per quanto riguarda la spesa dell'affitto, perché noi avendo locali come categoria artigiana non rientriamo in quella commerciale. Quello che chiediamo allo Stato anche in supporto dei nostri dipendenti è che venga data la casa integrazione che a distanza di due mesi e mezzo ancora non c'è. Noi abbiamo comunque dipendenti che hanno famiglie, pagano mutui come anche noi.